Da Euronics Gruppo Tufano fino al 2 marzo, più prendi, meno spendi. Il meglio della tecnologia ti aspetta con uno sconto da 50 fino a 500 euro su tanti prodotti selezionati. E in più, prima rata a settembre. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per very important person. Euronics Gruppo Tufano, un mondo più avanti e pieno di sorprese. Grazie per la visione!